Privatizzazione di schiambiente, Ciro Ferrandino è nettamente contrario, perché? Ma io l'ho detto varie volte, l'ho detto da sempre, io sono contrario alla privatizzazione delle società che partecipate. Oggi parleremo in Consiglio Comunale di schiambiente e sono contrario perché io prevedo, e così sarà, che con la privatizzazione ci sarà un decadimento del servizio e un peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Addirittura il privato potrà anche operare dei licenziamenti perché nessun vingolo lo impone a tenersi questi operai, tutti gli operai. Quindi se vuole ridurre i costi e quindi aumentare il proprio lucro, la cosa più semplice, la cosa che più può fare è quella di licenziare i dipendenti. Inoltre abbiamo visto che in tutti i comuni dove vi è stata la privatizzazione del servizio, quindi dato in affidamento a terzi il servizio di raccolta dei rifiuti, vi è stato un peggioramento del servizio. Noi siamo una città turistica e non ci possiamo permettere questo. Qualcuno dice, in particolare il sindaco, che questo è dovuto che oggi lui non può più tenere questa società perché è stata gestita male. Beh, voglio ricordare al sindaco che il proprietario di questa azienda, chi decide in questa azienda è proprio lui, è il comune di Ischia attraverso il sindaco. Il sindaco di Ischia sta amministrando Ischia da sette anni. Se ci sono problemi, sono dovuti al suo modo di amministrare. L'altro punto che io dico e che sostengo sempre è che oggi questa maggioranza non può fare queste scelte vincolanti anche per le future amministrazioni, perché non ha più i numeri nel Paese, perché il 25 maggio Giuseppe Ferrandini è stato sconvitto, l'opinione pubblica ha detto che non ha più fiducia in lui e quindi non gli ha rinnovato il mandato. Quindi io credo che questo deve essere rinviato. Se loro si rifanno alla normativa, la normativa è ancora in itinere, ancora ci sono delle evoluzioni. Nessuno oggi ci impone con la pistola vicino alla Tempia di privatizzare Ischia Ambiente, ma si può sicuramente rinviare, si può aspettare, si può fare l'affidamento a Ischia Ambiente per tre anni, cinque anni e dopo di che si decide se ci sarà una normativa che ci impone questo, valuteremo. Quindi io tutta questa fretta non la capisco, non riesco a capire quali sono gli interessi che si nascondono dietro questa corsa alla privatizzazione.